La corsa ha un determinato ritmo, a un determinato ritmo siamo efficienti, se andiamo fuori il ritmo non siamo efficienti, non si può correre, o meglio si può ma non si dovrebbe, non si dovrebbe correre a 150 passi al minuto. Questa è una corsa che non è efficiente, quindi c'è un ritmo che massimizza l'elasticità tendinia muscolare, che c'è tra i 170 e i 190 passi al minuto, poi cambia in base alla superficie, in base alla velocità, agli atti eccetera eccetera.